E' giunta in Canavesi insieme alla sua famiglia e con grande entusiasmo Elena Gheorghe, la famosa cantante romena, in visita a Castellamonte fino al 24 gennaio. Elena ha trovato subito grande accoglienza da parte dei comuni limitrofi. Ieri, in occasione del 38esimo storico carnevale di Aglie, è stata accolta presso il Salone Alladium dal sindaco Marco Succio e dai conti di San Martino di questa edizione. Grande accoglienza per lei anche a Dozegna, dove ieri è incontrato presso il ristorante Mona Lisa il cabarettista Franco Neri, mentre stamattina ad accoglierla è stato presso il comune il sindaco di Ozzegna Sergio Bartoli. La famiglia Gheorghe è felice di questa accoglienza e ringrazia di cuore il sindaco dell'Ie Marco Succio e il sindaco di Ozzegna Sergio Bartoli per il calore, la gentilezza e la disponibilità dimostrata nei loro confronti. Il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza li riceverà invece mercoledì prossimo alle 10.30.